Il polpaio è la domanda fatidica che incombe in questo caso la produttrice, ma Patrizia, Patrizia Angeli, del prodotto di polpaio, cosa rappresenta per te il Chianti? Come parola, come vino, cosa evoca? Diciamo che secondo me il Chianti è un territorio, quindi può rappresentare il nostro territorio, il territorio toscano e quindi anche tutti i vitigni che fanno parte di questo territorio, di conseguenza il San Giovese, principalmente, poi gli altri sottobitigni, come Patrizia Nera. E quando uno stappa la bottiglia, quella è la sensazione che vi piacerebbe che in qualche modo sentisse, pensasse? Cioè il Chianti si apre e a un certo punto il pensiero va? Dovrebbe proprio rappresentare quei profumi di quel terreno, di quei profumi come se uno posso proprio direttamente lì e stapparsi la bottiglia direttamente nel pigneto. Quindi aspettatevi fiori, frutta e tanti prati verdi.